Vabbè, è passata un'altra settimana e noi siamo ancora qua, e forse con un po' di fortuna questa volta Tucano riesce a lanciare la sigla. Non è un lavoro difficile, ce la puoi fare? Non parlerò. Bene, di cosa parliamo oggi? Potremmo parlare della sigla! Gliela concediamo? Cioè, apprezziamo il tentativo. Ok, però questa chiacchia della sigla l'ha stufato anche perché è sempre a mio danno e sono stufo di questo, abusi nei miei confronti, deve finire. Di cosa parliamo oggi, amici pennuti? A quest'oggi, se non sbaglio, volevamo riproporre quello che è stato il format dell'Human Watching, quindi parlare di curiosità dal mondo e cose che comunque ci hanno... Ma prima di tutto questo? Siccome in questa settimana io non ho portato argomenti perché non ho guardato niente e non mi sono messo a pari con le notizie del mondo perché i miei amici mi hanno regalato una Switch e faccio un piccolo corvo up su due giochi che secondo me mi sono dimenticato e uno ce lo siamo dimenticati perché dovevamo citarlo, riguardo la puntata scorsa. Il primo è Wario War Tatched che a me manda fuori di testa. Se l'avete giocato, è pieno di minigiochi stupidissimi, super idioti. Ma robe tipo tira i peli del naso, quelle cose lì, no? C'erano diversi... c'era Wario più tanti altri personaggi, tutti avevano una specie di minigiochi particolari. Non mi ricordo se erano a tema, tipo uno aveva i giochi di logica e una roba del genere. Ogni personaggio aveva il suo cluster di giochi che comunque era sullo stesso filone logico. E non so se avete mai visto il video iniziale ma l'incipit è che c'è Wario che sta camminando con un Game Boy Advance e un Game Boy Color mi sembra e cade in un... gli cadono in un tombino e nel tombino sale un angelo con questi due... con i due console più un Nintendo DS e gli dice che non deve rubare le cose perché è sbagliato e lui vede che al Nintendo DS e dice questo a due schermi potrei fare il doppio dei soldi, gli ruba al Nintendo DS e crea Wario over Touchet. E' geniale. E l'altro che secondo me è una perla forse del mondo videoludico è Shadow of the Colossus che non abbiamo assolutamente citato e secondo me va... gli va fatta almeno una menzione perché probabilmente è uno dei pochi capolavori in ambito di videogiochi che ci sono. Molto... è abbastanza ripetitivo come meccaniche ma non te ne accorgi. Sì però come gusto grafico e come estetica... c'è... pac. Sì passa in secondo piano la meccanica di gioco, te lo godi proprio per le ambientazioni, le musiche, molto 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 figo. E di quello devo assolutamente recuperarmi la remaster che è stata fatta recentemente per PS4 perché non lo giocai quando usci quindi per PS3, quindi lo devo recuperare per forza, lo so. Molto male. Che poi è molto compatto come gioco nel senso che se non mi ricordo male non ci sono nemici estranei ai Colossi, giusto? No, è platforming fino al punto del Colosso e poi Colossi. In queste ambientazioni ampissime. E non c'è neanche una crescita del personaggio, cioè sei tu e combatti così fino alla fine, no? Esattamente. Basta, fine del mio Corvo WAP, ora fate voi amici. Bene. Kiwi a noi spetta il compito di incuriosare con le curiosità i nostri telespettatori. Cosa avete watchato degli human in questi periodi? Io ho una cosa molto 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 rapida. Prego. Per cui se intanto vuoi cominciare tu... Ah, credevo volessi... No, no, me la tengo per ultima, è una curiosità così semplice e leggera. Allora, io sono un po' anacronistico perché la curiosità che voglio portarvi è una curiosità in realtà del 2007, che però io ho letto recentemente su... Pausa Trespolo, sempre al passo coi tempi. Eh, beh, insomma, dobbiamo anche prendere le curiosità passate. La prossima puntata è curiosità dal 1800 direttamente. C'è sul mercato questo nuovo raggeggio, si chiama Radiotelefono. Cosa ne pensate? Ci sono due papi adesso. Stupidi avignoni. Cosa? Questa era molto molto dotta come battuta, eh? Mi riesce. E comunque stavo dicendo che ho letto questa notizia recentemente su una pagina Facebook che si chiama La Scimmia Pensa. Su un radiogiornale. Ora, che stavo dicendo, si chiama La Scimmia Pensa, La Scimmia Fa, in cui questo signore è vestito in maniera normale, quindi jeans, camicia, non in maniera troppo appariscente, anzi super comune. Si reca nella metropolitana con un violino ed inizia a suonare per un 43 minuti con un cappello appoggiato già nel 2007, avvantissimo questo signore. 43 minuti di despassito, la gente si buttava sotto la metropolitana. E appunto ho cominciato a suonare per 43 minuti mettendo il cappello diciamo per le offerte e una telecamera ha ripreso il tutto. Questo è stato un esperimento sociologico che è stato messo in atto diciamo dal post di Washington, quindi dal giornale. In questo lasso di tempo ci sono fermate pochissime persone, principalmente bambini, e questo signore qua ha racimolato 33 dollari all'incirca, in 43 minuti, con i pezzi che ha fatto con lui che comunque credo che sia molto onesto, se non fosse che questo signore qua è un certo Joshua Bell, ed è uno dei violinisti più famosi del mondo, che ha vinto anche qualche Grammy e ora dirige l'Academy di St. Martin in the Fields. Detto Giovannino Campana per gli amici. Era quello che veniva al bar, si beveva sempre un letto. Cercando di dire una cosa seria, non lo so, si può lavorare. Che per dire è quello, il St. Martin in the Fields è l'Academy che canta l'ino della Champions League che passa sulle televisioni, quindi insomma è una cosa un po' importante. Il violino con cui ha suonato è uno Stradivari del 1713 chiamato Gibson X. Huberman e viene sui 4 milioni di dollari e di solito un suo concerto costa, il biglietto per il suo concerto all'epoca costa una cosa come 100 dollari andare a vederlo e lui è andato in incognito alla metropolitana a suonare dei pezzi super mega complicati e super ricercati che il pubblico pagante diciamo quando va a vederlo a teatro, non so parlare, quando va a vederlo a teatro apprezza moltissimo, mentre in metropolitana pochissime persone sono fermate e come appunto riportato dalle telecamere e dal giornale stesso la maggior parte erano bambini o comunque gente non erudita in quel campo. E niente, questo esperimento sociologico appunto parte dalla premessa che siamo in orario di punta in metropolitana, le persone sono di fretta e c'è anche del rumore, ma in questi casi qua riusciamo a percepire la bellezza, ci fermiamo ad apprezzarla e se non abbiamo un momento per fermarci ed ascoltare uno dei migliori musicisti del mondo, quante altre cose ci stiamo perdendo in questo mondo che continua ad andare di fretta? Vi lascio questa domanda un attimino in sospeso e questa frase l'ho un po' ripresa da appunto il sito, non è tutta farina del mio sacco quindi do i credit anche a loro, però questa cosa verrà tagliata e quindi non è stata intellettuale. Bene, io penso che queste cose, questi esperimenti eccetera che vedo spesso, i famosi esperimenti sociali che fa molto di modo da fare sul web da 4-5 anni a questa parte, in questo caso lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che secondo me il problema in questo caso non è tanto il fatto di riconoscere la bellezza ma è un fatto di decontestualizzazione del personaggio, è come se ti mettessi un giocatore dell'NFL a fare dei lanci in Central Park con un suo amico, tutti gli americani vanno matti per il football americano, però se magari non riconoscessero questa persona sarebbero comunque due persone che giocano a football tra le altre migliaia di persone, io posso capire che magari sono brani ricercati, eseguiti in un modo ricercato, diverso da quelli che normalmente fanno i senza tetto o comunque le persone, gli artisti di strada che suonano nelle stazioni della metro, lo posso capire però quando una persona va al lavoro ha talmente uno scopo di raggiungere dal punto A al punto B che non si fa neanche tante problematiche di quello che gli sta attorno. Sono d'accordo con te, nel senso che il problema qua non è tanto il non riuscire a percepire la bellezza come ha detto Corvo, il problema è, uno, è stata scelta una tematica che è comunque di nicchia, perché se tu mettevi una persona a suonare una batteria che faceva 18.000 evoluzioni, probabilmente si fermavano in 300, hanno scelto il violino che comunque è uno strumento che richiede un certo orecchio per essere apprezzato e soprattutto dei brani da violino che sono cose di un certo livello, per cui il tizio che lavora nell'ufficio che sta passando di lì ed è in ritardo perché deve prendere il treno, neanche lo sente passando, non c'è l'impatto che avrebbe un altro tipo di cosa, come magari avessi fatto un flash mob coinvolgendo 300 persone, l'intera stazione si sarebbe bloccata a vedere e avresti avuto totalmente un altro effetto. Rimane un po' un peccato, però secondo me non fa testo, non può essere. Bisogna fare una scissione tra l'impatto e la spettacolarità della cosa, nel senso che certi contesti sono adatti ad azioni che hanno più impatto, perché rimangono più nella memoria, perché magari nella metro c'è da parte delle persone una solida attenzione molto più bassa rispetto che nelle persone che vanno al teatro per ascoltare questa cosa, perché magari un violino raccoglie molta meno attenzione, nel senso che è più una cosa di nicchia e raccoglie l'attenzione di chi va là per avere l'attenzione del violino. Ma invece il flash mob è una cosa che invade talmente tanto lo spazio personale delle persone, ma che è impossibile non notarlo, perché ti distruggono la quotidianità, è fatto apposta per prendere l'attenzione di tutti quanti senza motivo, anche se non voi, alcuni sono disturbati, alcuni sono divertiti, però il violino è talmente una cosa di sottofondo e di nicchia, ripeto, che diventa quasi una linea guida su cui si costruisce il resto dell'ambiente. Che poi però da questo punto di vista qua, allora forse, forse c'è un fondo di verità in tutto questo, nel senso che nel fare le tue azioni quotidiane sei talmente distratto da quello che devi fare che serve veramente una bomba per farti prendere quel momento e dirti ok mi rilasso un attimo e mi godo quello che ho intorno. E credo che uno dei motivi appunto di questo esperimento sociologico sia esattamente questo, cioè quello di non tanto fare una critica su quelli che vanno a teatro a sentire un violinista se poi non se ne accorgono quando suona per strada, parlavo in generale, quanto più per fermare un attimo le persone e farle pensare sul fatto che, soprattutto in grandi metropolitane come quelle di Washington, quelle americane, ma possiamo fare anche degli esempi nel nostro paese, le persone vadano talmente tanto di fretta e pensino talmente tanto alle loro cose, magari concentrate sul loro lavoro, su quello che devono fare in quella giornata, che si perdono la giornata stessa e quindi quelli piccoli momenti che magari possono fargli venire un sorriso o appunto fargli apprezzare una bellezza, una bellezza che può essere uno scorcio invece che magari camminare e guardare il telefono, alzare un attimo gli occhi, guardarsi in giro, avere la testa libera e per un attimo non pensare a niente anche nell'arco di una giornata magari molto faticosa e molto tediosa. Credo che sia quello lo spunto che volevo dare. Vista qua è verissimo, vista in questa ottica qua è vero. Altro punto, la bellezza per il mondo umano è un elemento relativo, non è un elemento assoluto. No, no, è assolutamente soggettivo. Per questo dico che magari a una persona che non piace il violino è normale che non sappia apprezzare quella bellezza, però magari gli piace la musica rock o la batteria e ci sia prestato quello che suona, come ha detto Kiwi, con le pentole e i secchi rovesciati, una bottiglia tipo Power Arcore, gli sarebbe piaciuto tantissimo. No, ma infatti è anche per quello che è stato fatto in metropolitana, cioè sono stato calcolato un flusso di un migliaio di persone che gli sono passato davanti per avere un po' un buon gruppo statistico, ecco però. Comunque se vai in metropolitana con un violino da milioni di euro. 4 milioni di euro. Portati la scorta della polizia, perché forse, forse. È andata bene comunque. È andata bene. È andata bene. Perché nessuno l'ha riconosciuto e gli ha rubato... Tornando a casa gli hanno rubato il cappello con i 37 dollari e il resto l'hanno lasciato lì. Tipo, a fine esperimento sociale, oh vi abbiamo gabbati, io ero un violista famoso e questo vino vale 4 milioni di euro, pugni in faccia, ruba il violino e va a casa. Lei sì che si fermano tutti, si girano verso di lui e comincia una caccia all'uomo di quelle. Ah io una cosa velocissima, c'è un'azienda tale Mindesk, che è una start-up che è stata fondata nel 2015 a Bari, hanno sviluppato un sistema di realtà virtuale per fare i progetti con AutoCAD, quelle cose lì no, sfruttando appunto la realtà virtuale, per cui avendo il progetto davanti. Hanno ricevuto recentemente, e si parla di inizio di questo mese, una sovvenzione di 900.000 dollari. Questo è semplicissimo solo per dire che di solito quando si parla di tecnologia noi italiani sembriamo sempre essere l'ultima ruota del carro, o quantomeno comunque siamo molto indietro, però queste piccole start-up che sfruttano le tecnologie attuali per fare qualcosa di bello evidentemente ci sono, mi aveva colpito questa cosa. Dallo Stato? No, 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 ci sono state delle compagnie, tra l'altro adesso hanno preso contatti con l'HTC, che è l'azienda che ha sviluppato il Vive, che è il casco per la realtà virtuale migliore in commercio, e devono aprire una sede a San Francisco. Ma quindi è un'azienda autoctona, quindi barese? È una start-up che era partita nell'Università di Bari. Comunque, in serio, mi ha colpito perché bravi questi ragazzi, nel senso, danno un attimo valore alla patria. Sì, che poi, dove è questa notizia? Dove l'hai tirata? Carissimo Flipboard. Ok, chiaro. Perché uno sa, è un'applicazione che rovescia i tavoli. Esatto. No, io lo uso spesso, la mattina mi metto lì, le giucchio qualcosa. E poi rovescio i tavoli. E poi rovescio dei tavoli, così. Bene, benissimo Benone. Visto che il nostro Corvo ci delizierà con la chiusura della puntata con una piccola chicca a sorpresa, dico io l'ultima curiosità, che vabbè, in realtà è una curiosità che non è più una curiosità, quante volte ho detto curiosità, perché tutti quanti ormai ne sono venuti a conoscenza, del caso Albano, cioè di questo nostro grandissimo cantautore italiano, Albano Carresi, che è stato inserito settimana scorsa nella lista nera dal ministro della cultura dell'Ucraina, senza un apparente motivo. Questa lista nera dovrebbe esserci tipo dal 2015, ci sono una cosa come 147 nomi sopra, ovviamente dovuta dai rapporti non troppo morbidi che ci sono tra Ucraina e Russia, infatti in questa lista sono presenti tutti quegli artisti che sembrano simpatizzare il buon caro vecchio Putin e Albano a quanto pare è fra questi, infatti è un sacco famoso in Russia, Albano e Romina fanno dei tour là dagli anni Ottanta. Qua un sacco in Russia. Sì, tantissimo. Toto Cutugno, tutti quegli artisti lì che noi non sappiamo riconoscere la bellezza e i russi stanno riconoscendo un sacco. Assolutamente sì, perché i russi sono un sacco più avanti, non è vero. C'è anche da dire che i russi riconoscono la bellezza nei sacchi di patate, per quello, per cui... E vedi, vedono la bellezza nel sacco di patate e dicono, mmm, vodka. Vodka. E appunto Albano aveva recentemente in intervista appoggiato la scelta della Russia di annettere la Crimea in maniera, diciamo, non proprio pacifica, come aveva fatto delle... Penso si dica conquistare. Sì, credo anch'io. E vabbè, sappiamo un po' tutti com'è andata quella cosa, non voglio entrare nel politico e quindi non ci entrerò. E quindi è stata una cosa un po' simpatica, ma ovviamente ad Albano più di tanto non è che interessi. L'unica cosa che gli interessa è il fatto che alcuni imprenditori ucraini gli avevano già pagato dei tour che avrebbe dovuto fare questa estate, quindi adesso sta cercando di vedere come muoversi. Ma la cosa più bella che è scatturita da questa sono stati i meme su internet, perché internet è esploso e c'è pieno di meme ovunque e sono tutti bellissimi, ne cito solo uno perché secondo me è il più carino ed è Albano Carrisis, che è quello che è finito su commenti memorabili e cioè applauso gigantesco, inchino e datti una medaglia a quell'uomo. A volte la semplicità è molto migliore. È lì che devi andare a colpire, nella semplicità non devi fare troppi giri di parole. È detto da te. È detto da me un complimentone. Sarà complesso di tucano mettere i link ai meme sotto la puntata. Li vogliamo tutti. Provvederò. Corvo? Corvo per voi con due rubriche inedite. Abbiamo la consueta curiosità che dirò alla fine, eh? No, anzi dirò adesso, perché ci lasciamo con un'altra cosa. La curiosità di oggi è. Allora, in realtà non ha tante da proporvi, ma principalmente ne ho selezionate quattro. Quante ne volete sapere? Due? Sì, dai, due. Bene. Parliamo prima di compleanni. Voi non siete contenti quando compiete gli anni? Sì, perché mi regalano niente. Non siete felici? Non vi sentite bene? Dite, oh che bello, anche quest'anno è andato bene. Beh, ti dirò che anche quest'anno sono vivo. Bene, hai toccato proprio il punto giusto, Kiwi, perché nel giorno del proprio compleanno le persone hanno il 14% in più di chance di morire. E questo dato da cosa? Non lo so, quindi auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Io mi tocco. Ma come l'hanno fatta la statistica? Non lo so. Si sono messi a pedinare gente nel giorno del loro compleanno e vedendo se moriva. Sì, con una pistola puntata nella tempia. Sai che sto a casa a questo compleanno? Diciamone un'altra, dai. Vai. Più allegra, più allegra però questa volta. Più allegra? Sì. Allora, parliamo di pietre preziose, i diamanti. Ok, tutti sanno che un diamante ci mette tanto per formarsi. Infatti è per sempre. Infatti è per sempre, ma quando ci mette esattamente un diamante? Pochi sanno che la maggior parte dei diamanti che vediamo adesso ha più di 3 miliardi di anni. Bello. Credevo dicesi che la maggior parte dei diamanti che vediamo adesso non esistono più come le stelle nel cielo. Vediamo le luci. Vediamo la luce residua di un diamante morto. È stato poetico. Che poi, adesso li fanno anche artificialmente. Tipo puoi mandargli pezzi di capelli e loro ti fanno. Mannaggia. Meglio recente. Guarda, amore, ti piace il tuo anello? L'ho fatto con i miei capelli. Ecco, quindi al vostro compleanno suicidatevi e poi usate le ceneri per regalare un anello alla vostra fidanzata. Non lo so, non lo so. Come? Ok. Ultima cosa che tanto ormai siamo in vera di curiosità. Siamo nel macabro più macabro ormai. Facciamo 3 dai, abbiamo fatto 2. Ma sì, 3 è il numero... Il 10% di tutte le foto del mondo esistenti sono state scattate negli ultimi 12 mesi. Ma perché... Il 10% di tutte le foto esistenti, ma online o proprio in generale, o cartaceo, o qualsiasi tipo di... In generale. In qualsiasi tipo di formato, sono state scattate negli ultimi 12 mesi. Ma questo perché vanno a essere cancellate quelle prima o... Ma è possibile? No, secondo me non mi riesce neanche difficile da credere, nel senso che... Penso che sia esponenziale la crescita di fotografie fatte, un po' perché la tecnologia diventa più a portata di tutti, e poi con l'evento dei social, eccetera, dai mano a un quindicenne adesso un telefono e nel giro di tre giorni ti ha rifatto completamente la statistica. Vero. E queste erano le mie curiosità. Passiamo ora all'ultimo micro rubrica che è Fenigma, quindi vi proporremo un enigma. Finalmente. E starà a voi in questa settimana a mandarci le soluzioni. Vai. Se, e dico solo se, ci manderete la soluzione esatta, con cosa rispondere a noi, amici penuti? Non lo so, però ho come l'impressione che verrà scritto un bravo sei bravo da qualche parte e infiato a questa persona. Potrà succedere, non potrà succedere, potremmo mandarvi una foto di un nostro... Occhio alle parole. No, non sto a far dire pene, però ora lo dirò, pene! No, ma vi manderemo una foto sorpresa di qualcosa che ci piace. Solo se indovinerete. Non vai a cercare su internet perché non lo sappiamo. Allora... Fenigma numero uno. A seguito di una telefonata anonima, la polizia fa eruzione in una casa per arrestare un sospetto omicida. Tan tan tan... Non sanno che aspetto abbia questo omicida, ma sanno però che si chiama John e che si trova dentro la casa. La polizia, appena entrata, appena fatta eruzione, si trova davanti un falegname, un autista, un fabbro e un prete. Queste quattro persone stanno giocando a poker. Chi sta vincendo? Chi sta vincendo? Non è importante, ma sono abbastanza sicuro che sia il fabbro. La polizia, appena subito, nel momento in cui entrano, si sfogliono subito ad arrestare il prete. Perché arrestano il prete? E come fanno a sapere che è lui l'omicida? Mandateci le vostre risposte. Avrete la risposta la prossima puntata. Non vale cercare su internet perché siete brutte persone. Ma tanto sappiamo che lo farete lo stesso perché... Tanto vale a dirvi ora la soluzione. Ma non lo faremo. Io ho concluso. Bene. Ottimo. E anche questa settima puntata... È stata la settima puntata? È la settima puntata. Sette è il numero perfetto, questa sarà la puntata perfetta. Quindi questa sarà l'ultima puntata. Grazie mille per averci seguito, è stata una bellissima esperienza. Noi ci vediamo mai più. E mai più è esattamente lunedì prossimo alle 14, come tutti i lunedì prossimi alle 14. Ciao! Ciao belli! Non abbiamo detto che per qualsiasi cosa trovate i link in descrizione. Seguiteci sui social, mandateci email, Instagram, Twitter, Facebook. Ciao! Ciao!